Gli elettori di Calgary non credono che la candidatura olimpica della città canadese sia una buona idea. Cortina e Milano sognano l'avventura a cinque cerchi. Nuovo capitolo nella marcia di avvicinamento all'assegnazione dei giochi invernali del 2026. Il referendum proposto in Canada per sondare l'opinione degli abitanti di Calgary nei confronti della candidatura olimpica ha visto prevalere i contrari che rappresentano il 56% dei votanti. Un dato che si aggiunge alle difficoltà di reperimento dei fondi necessari. A Stoccolma invece Comune e Parlamento sarebbero tiepidi di fronte a un'eventuale organizzazione delle Olimpiadi. Milano e Cortina hanno il sostegno politico ma non ancora le coperture economiche. Da parte del governatore del Veneto Luca Zaia un invito alla cautela. Di fronte al risultato del referendum di Calgary commenta dobbiamo lavorare, progettare, fare squadra come se avessimo mille competitor. Guai abbassare la guardia. La consultazione canadese non è vincolante ma potrebbe condizionare le istituzioni del paese nordamericano. A questo punto aggiunge il governatore del Veneto dobbiamo sostenere la candidatura Milano-Cortina con ancora più tensione e determinazione di prima. Sarebbe un errore calare la tensione per un possibile avversario in meno perché non si vince adesso ma il giorno dell'assegnazione ufficiale da parte del CIO. Il 28 novembre a Tokyo il consiglio esecutivo dell'Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali, passaggio fondamentale in vista dell'assegnazione finale che sarà decisa a giugno nella città svizzera di Lausanna.